Quanto accade a Paolisi, comune in provincia di Benevento, tiene in apprezzone da alcuni giorni anche una parte dell'Irpinia, più precisamente la Valle Caudina, per quanto accaduto presso un'azienda avicola. Il comune Sannita, dichiarato zona rossa, non solo è vicino alla provincia di Avellino, ma si temono riflessi perché alcuni lavoratori dell'azienda vivono a Cervinare e Rotondi, mentre nel resto dei comuni della zona ci sono molte persone che hanno parenti nella vicina Paolisi, dove su un totale di 2000 abitanti risultano positive 17 persone in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliata e due sono in ospedale a Benevento. Sono tre i dipendenti della vicola che vivono a Cervinare, uno in risultato positivo al tampone, negativi altri due residenti nello stesso comune che però devono rispettare il periodo di quarantena. Altri quattro lavoratori risiedono invece a Rotondi e due sono risultati positivi. Il primo cittadino di quest'ultimo comune ha predisposto la chiusura di un locale panificio in via precauzionale, in quanto un dipendente residente a Montesarchio convive con un covid positivo che lavora presso la vicola di Paolisi. Per evitare possibili ulteriori contatti, il sindaco ha scelto la via cautelativa. L'annuncio della chiusura è stato dato dallo stesso titolare del panificio che ha scritto su Facebook per ordinanza del sindaco del comune di Rotondi. A causa della convivenza di un nostro dipendente con una persona risultata positiva, chiudiamo da premettere che al nostro dipendente non è stato fatto alcun tampone, ma le autorità hanno deciso e condividiamo tale decisione per la salvaguardia della salute pubblica in modo da ridurre ogni possibile rischio di propagazione del virus.